Qualcuno potrebbe dire Oh, è arrivato finalmente quel momento e dopo una marea di polemiche, signori, finalmente il grande fratello Vip ha preso un provvedimento nei confronti dei concorrenti. Allora, prima di inoltrarci, vi invito a lasciare un pollice in su, come sempre sotto questo video, per supportarmi. Detto questo, era da un sacco di tempo che gli spettatori si erano un attimino ressi conto di qualcosa che non andasse bene, quindi avevano inondato Twitter di proteste e di tante lamentele. E la produzione, dopo aver presumibilmente letto attentamente proprio ciò che era su Twitter, ha deciso di correre ai ripari e di evitare ulteriori strascichi. Quindi lo ha fatto praticamente a poche ore dalla diretta che ci sarà tra poco. Questa edizione, signori, lo sappiamo, è stata caratterizzata da un sacco di momenti di tensione, solo che adesso la produzione ha assunto questo provvedimento con i concorrenti che sono già stati informati della decisione presa. E come sottolineato da un internauta, a riferire tutto ai resti dei compagni di avventura è stato Edoardo Tavassi. Certo, non si sa come l'abbiano presa un po' tutti i vipponi, i quali certamente potrebbero aver mostrato un po' di insofferenza, ma il volere dei telespettatori ha avuto assolutamente il sopravvento. E nei giorni scorsi parecchi telespettatori hanno protestato contro gli autori del Grande Fratello ed era stata fatta una richiesta abbastanza specifica, prendere un provvedimento nei riguardi proprio dei concorrenti. Gli autori avevano infatti ritenuto giusto dare ai vipponi qualcosa per poter trascorrere in maniera spensierata e divertente tutta la giornata. Ma c'è stata una dura presa di posizione del popolo del web, che non ha apprezzato quella scelta. E ora ci sarebbe stato il dietrofront improvviso che ha soddisfatto la gente da casa. Quindi sono anche sicuro che in mezzo ci siate anche voi. In tanti avevano contestato l'utilizzo delle carte da parati dei ceffini che hanno soffrito anche di una scacchiera. Ma ora la produzione avrebbe impedito loro di giocare con le carte subito dopo le proteste. Questo quanto riportato dal profilo social. Edoardo Tavassi hanno tolto le carte perché da fuori qualcuno si è lamentato e anche oggi Twitter ha vinto. E poi tutti i messaggi così, eh? Cioè tipo, eh, forse più per il concetto gioco d'azzardo che altro. Eh, anche la scacchiera, tutti i giochi che non coinvolgano la maggioranza. Ma davvero? Insomma, tutti contenti. Cioè, tutti contenti, ma tutti allibiti. Quindi possiamo riassumere con un bel lieto fine per questa storia che probabilmente molti di voi apprezzeranno. Allora, gogliamoci la diretta stasera, poi vedremo quale notizie spunteranno fuori. Io sarò qui a raccontarlo. Spero che mi verrete a trovare qui su Pausa Caffè. Intanto, buona serata a tutti e alla prossima!